Orgogliosi di presentare gli artisti della prima classe materna B. Con la maestra Narella, gli artisti hanno lavorato con l'ispirazione di Leonardo da Vinci e il suo amico Joan Miró. Possiamo vedere questi artisti e le sue opere, tante linee, colori, forme e guardate come lavorano, giorno e notte. Hanno perfino ricreato i quadri e gli inventi di Leonardo da Vinci. Osserviamo le opere. Questi sono soltanto alcuni degli artisti, artisti in erba, i primi passi in arte. Ci sono altri artisti che stanno arrivando a questo museo Leonardo da Vinci. Dobbiamo aspettare ancora, ma ogni giorno, nuovi artisti. Ci vediamo! Grazie a tutti!